In compagnia della neo sindaco di Francavilla al mare Luisa Russo, tutti hanno detto oggi che l'hanno vista particolarmente emozionata, più emozionata ancora del giorno in cui si è decretato il suo destino come sindaco. È vero, oggi è stato un momento emozionante, quello della proclamazione ufficiale perché da oggi sono ufficialmente il sindaco della mia amatissima città e da oggi sono veramente al lavoro per il futuro di Francavilla. Sgomberiamo subito il campo da quello che è un dubbio, non so se formale o sostanziale, a questo punto sindaco, sindaca, il sindaco, la sindaca, la sindaco, dica lei. Lascio la scelta alla città, c'è chi preferisce chiamarmi sindaco, chi sindaca, Luisa va sempre benissimo quindi la scelta ai residenti di Francavilla è chi vorrà. Io dico sempre che quando una donna avanza, avanza per tutte le donne e la candidatura di una donna a sindaco ha fatto sì che molte si avvicinassero e si proponessero come candidate consigliere. Questo la città lo ha voluto premiare perché la mia maggioranza sarà composta da sei donne e cinque uomini, hanno scelto i cittadini. Sì, adesso sto incontrando tutti i gruppi, quindi sto colloquendo ancora con tutti, le idee sono quasi chiare, però voglio completare il giro, sentire tutto, valutare bene tutto perché deve essere una buona squadra e quindi ancora non ho completato il lavoro da fare per nominare la Giunta. Come si dice in questi casi, da dove comincia i famosi primi cento giorni, ma diciamo anche la prima decina di giorni? Sicuramente riorganizzazione degli uffici per quanto riguarda ciò che si deve fare all'interno di questo palazzo, ma ricognizione dello stato dell'arte delle strade e dei marciapiedi perché è una delle richieste principali che mi è stata fatta, ripartendo dalle zone meno centrali perché è stato un impegno che ho preso con la città e poi i primi atti importanti sono quelli della riqualificazione, insomma, realizzazione, diciamo, il cammino verde che da Piazza Sirena salirà verso la collina, voglio avviare quel procedimento, iniziare a pensare alla progettazione della zona a terra del porto e tutto ciò che serve per il completamento del porto. Vabbè, c'è tanto da fare, quindi pensiamo alle esigenze quotidiane ma anche a ciò che bisogna fare per costruire la città del futuro, quindi le infrastrutture importanti e le opere importanti. Allora, Sindaco, io le faccio sentire un breve filmato che ho realizzato in uscita da un seggio, prima naturalmente che si sapesse il risultato della votazione, però ho chiesto degli abitanti delle contrade quali sono le urgenze, quali sono i punti che ritengono non sufficientemente curati fino adesso e che, insomma, auspicano che siano più attenzionati dal nuovo Sindaco. Vediamo un po'. Di contrade si è parlato tanto in questa campagna elettorale, vi sentite rappresentati come abitanti delle zone esterne al centro di Francavilla? Insomma, non tantissimo, non tantissimo, no. I suoi primi sono molto diversi da quelli del centro urbano? Le strade sì, assolutamente, perché sono veramente impraticabili, impraticabili per tante buche, se uno va in bicicletta a rischio di fracassarsi, perché comunque sia, sono veramente allucinanti. Poi, che ne so, i servizi. Io penso a una nostra vecchiaia, non sarà il caso di rimanere qua, perché non siamo, come si dice, non siamo agevolati a prendere l'autobus oppure altri tipi di trasporto, non ci sta. Allora, questo sinteticamente, insomma, il pensiero e anche gli argomenti, i temi importanti segnalati da questi cittadini, a caso presi all'uscita dal seggio di Contrada Cetti, due punti però importanti, strade e autobus e mezzi di trasporto. Sì, allora, in questo periodo di campagna elettorale ho proprio percepito questo senso di mancanza di appartenenza di residenti delle contrade alla comunità di Francavilla. Ed è proprio la prima cosa sulla quale vorrò lavorare. Non è che chiedano moltissimo, chiedono la sistemazione di alcune strade, anche se alcune già sono state sistemate nel corso degli anni, della realizzazione di servizi essenziali e qua si parla anche dei collegamenti con il centro della città. Sappiamo bene che la tua è una società a partecipazione regionale, quindi lavoreremo da subito, l'abbiamo già fatto, non è semplicissimo perché gli utenti sono pochi, quindi quella è la parte più difficile, ma insomma ci sarà un massimo impegno per tutto. Proprio per questo ho previsto la figura della delega di un assessore alle contrade che si occupi proprio di raccogliere le esigenze che ci sono nelle contrade e se le faccia carico anche avendo un apposito capitolo di bilancio e quindi cercando di realizzare problemi che sono rimasti ancora irrisolti. È stato sottolineato molto anche il colore rosa della presenza in comune oggi, io per la verità sono anche un po' stanca di sottolineare sto rosa perché dovrebbe essere talmente uno dei colori come gli altri che magari non va sottolineato, ma siamo ancora nel mondo in cui va sottolineato. Un rosa particolarmente acceso nel caso di Francesca Buttari che è risultata nella coalizione che poi ha portato alla vittoria del sindaco Luisa Russo per il centro-sinistra la più votata, quindi un consenso personale se lo aspettava, se ne aspettava di più, di meno? Ci contavo, me lo aspettavo forse no in questa misura così importante perché quasi 500 voti in una città come Francavilla che di fatto è una città di media grandezza, è veramente tanto, tenendo conto che eravamo 316 candidati quindi anche facendo un conto così un po' spicciolo prima del voto, no non mi aspettavo forse neanche di superare i 400 questa volta quindi è stata una sorpresa grande per quanto riguarda il risultato numerico devo dire che quello che vedo intorno a questo voto è che mentre nel 2016 il voto importante che ho preso allora è stato un po' il premio, il riconoscimento a un bravo amministratore perché uscivo comunque da tre anni e mezzo di assessorato alle politiche sociali e alla scuola questa volta credo che la città abbia voluto comunque consegnare in mano a una persona che è stata 10 anni in amministrazione un patrimonio politico che io mi sento comunque adesso di voler rappresentare in amministrazione quindi un voto diverso da quello del 2016, sicuramente più politico che non solo di giudizio sull'operato Anche perché, lo faccio un piccolo cenno, all'inizio non si era messa proprio così come dire concorda questa vicenda perché la scelta è ricaduta su Luisa Russo come candidata a sindaco, aveva creato dei malumori forse Francesca Buttari qualcosa in più se lo aspettava, poi lungo il percorso della campagna elettorale ha rimesso un po' a posto gli animi, accordo ritrovato per arrivare dove? Io rimarrò in consiglio comunale questa volta, l'ho dichiarato subito ma perché credo che tutto sommato sono stata una collaboratrice del sindaco fedele dedita al lavoro, alla città per otto anni e quindi questa per me è un'esperienza che in qualche modo si è conclusa questa volta voglio dare un contributo importante ai lavori del Consiglio che secondo me avrà nel prossimo decennio un ruolo comunque ancora più significativo di quello precedente perché ci aspettano delle sfide importanti, ci sono nuovi eletti e quindi voglio portare questa volta la mia esperienza all'interno del Consiglio Comunale poi se sarà da Presidente del Consiglio insomma lo vedremo nei prossimi giorni Ecco, lì però c'è anche un po' da fare i conti con l'opposizione lei pensa di poter trovare anche una forma di collaborazione costruttiva? Allora io credo che nella dialettica politica e Luisa ne è un esempio le donne trovano forme di dialogo più semplici nel senso che siamo così meno oppositive e abbiamo secondo me anche un dialogo più fruttuoso da questo punto di vista con moltissimi consiglieri di minoranza, insomma con moltissimi consiglieri di minoranza lavoro ormai da tanto tempo perché erano presenti già nello scorso mandato Io credo che comunque il Consiglio Comunale sia il luogo della maggioranza ma anche della minoranza quindi sicuramente ci sarà il modo di trovare laddove possibile perché la democrazia è fatta di una maggioranza e di una minoranza un lavoro comune, questo sì assurdamente è un'altra domanda cioè abbiamo una domanda quindi è un'altra domanda è un'altra domanda quindi ci sono un'altra domanda